Nessun gioco, nessun enigma particolare. Vi ho fatto un po' un collage della nostra esperienza con l'emimegalencefalia perché è una patologia così grave, così severa, così drammatica che vale la pena vedere nel qualche caso. Vedete gli elementi fondamentali che abbiamo visto l'assimmetria della linea mediana con un emisfero notevolmente più grande rispetto all'altro dimensione della scatola cranica superiori a due dimensioni standard da quest'epoca qui e si intravede di sopra un ventricolo dilatato. Si vede meglio qui perché il fetto si è girato e vedete la ventricolomegalia monolaterale e l'assimmetria e anche l'irregolarità della linea mediana vedete che non è disegnata. Queste sono invece delle scansioni coronali, come potete vedere che dimostrano la ventricolomegalia monolaterale e l'irregolarità dell'altro emisfero. Corpo calloso presente, molto sottile, un po' peculiare nella sua forma e poi questo aspetto molto suggestivo per una malformazione corticale vedete questa parenchima cerebrale piuttosto omogenea, tipo vetro smegliato con tante piccole, si vedono qua, tanti solchi che definiscono tante piccole circonvoluzioni. È una grossa dilatazione irregolare di un ventricolo. Caso tipico Il trigono misura 11 mm e poi andando giù in basso vedete che si vede una comunicazione apparente tra la cisterna magna e la cavità del quarto ventricolo che sembra più grande. Il verme cerebellare c'è, si vede bene in questa scansione qua nella scansione sagittale si vede un verme cerebellare apparentemente normale ma discretamente ruotato rispetto a un tronco cerebrale che è normale. La ventricolomegalia è un reperto ecografico che in più nel 90% dei casi è associato con una totale mancanza di sintomi, è completamente sintomatica, priva di problemi. Lo stesso, la cisti della tasca di Blake, qua, è un reperto che nella grande maggioranza dei casi è privo di significato. Se li mettete assieme il discorso cambia. Cioè in generale, insomma, due varianti della norma messe assieme, due alterazioni dell'anatomia cerebrale messe assieme di solito vogliono dire qualche cosa di più rispetto a una singola. E uno già a quel punto deve essere molto più cauto. Non è che perché una è di solito priva di conseguenze, l'altra è di solito priva di conseguenze. Se le trovo tutte e due assieme sono prive di conseguenze allo stesso modo. Poi qui si vede un'altra cosa, che è quella che naturalmente andremo a guardare per prima. Vedete che la parete del ventricolo laterale non è così ben definita. E se guardate meglio, vedete che c'è la tipica zigrinatura che la risonanza magnetica non riuscirà mai a cogliere, ma che però con l'ecografia si vede particolarmente bene, soprattutto con l'ecografia transvaginale, che è stata ottenuta in questo caso. Vedete che c'è questa zigrinatura qua. E poi, come accennava Paolo, questo aspetto molto peculiare dei corni frontali che sono un po' più grandi e soprattutto molto molto squadrati. A questo punto la nostra visione di questo quadro era piuttosto problematica perché abbiamo comunicato alla paziente che c'era un problema, un altro possibile problema, la cui combinazione non era molto chiara, più un altro terzo elemento che probabilmente voleva dire anche qualche cosa di peggio. Vi faccio vedere l'immagine in movimento. Vedete? Tipicamente questo trigono che ha una parete che non è ben definita, ma è zigrinata e irregolare. A questo punto la paziente non ha voluto eseguire nessun altro ulteriore accertamento e ha scelto di interrompere la gravidanza in un'altra sede e l'esame autoptico eseguito in un centro dove non c'era neanche una particolare esperienza è stato del tutto irresolutivo. Questo è l'altro problema, naturalmente, che se questi pazienti scelgono di interrompere la gravidanza, poi spesso l'esame autoptico non permette di mettere in evidenza niente, neanche se è fatto da degli esperti. Un altro caso, gemelli bicoriali. Feto femmina ha un'ecografia completamente negativa e il fete maschio, invece, come potete vedere, ha un piede torto bilaterale. L'esame transaddominale per via assiale della scatola cranica del feto non dimostra dei reperti particolari, però con l'ecografia multiplanare ci sono delle cose che non tornano completamente. Il corpo calloso, come vedete, è più piccolo di quello che succede di solito. È un dato che non si sa bene come interpretare, però abbiamo detto diverse volte, se vi ricordate, che probabilmente la soglia che identifica i casi a rischio nel secondo trimestre sono 15-16 mm. Al di sopra di 15-16 mm di solito l'esito della gravidanza è normale, sotto i 15 è tutto molto più incerto. Poi c'è una piccola cistida del velo interposito, che di per sé non è un elemento patologico, però si trova spesso in concomitanza con delle altre patologie, soprattutto con patologie del corpo calloso. I ventricoli hanno questo aspetto peculiare, piuttosto squadrato, una cosa che colpisce anche la scissura interemisferica, che sia qui che qui è insolitamente ampia, una cosa che di solito non si vede, e la parete è anche un po' irregolare. Quando poi andiamo a guardare il contorno dei ventricoli in assiale vedete che abbiamo nuovamente quel reperto. Queste sono due ecografie transaddominali, questa è l'ecografia transvaginale, e vedete che c'è questa zigrinatura. A questo punto c'è una grande incertezza su che cosa fare, perché abbiamo il piede torto bilaterale e poi tutta una serie di elementi a livello del cervello del feto che potrebbero non essere niente, però sono stranamente combinati. Difficile dare un consiglio a questa paziente, e il meglio che si può dire è che il cervello ha un aspetto diverso rispetto a quello che dovrebbe avere di solito e che potrebbero esserci dei problemi. E vederli assieme a una malformazione come il piede torto solleva numerose incertezze. A questo punto la paziente sceglie di fare un aborto parziale del feto con il piede torto, il feto maschio, fa un'amniocentesi su entrambi i feti che è negativa, CGH-RE è completamente negativo, e poi avviene un parto a termine del feto femmina e naturalmente c'è un punto interrogativo su che cosa questo potesse rappresentare. Questa è vita vera e spesso la situazione è molto incerta. La genesia del corpo calloso ha un sviluppo intellettivo che viene considerato normale o borderline nell'80% dei casi, 75-80% dei casi, però non sono tutte quante uguali. Questa è una genesia del corpo calloso che ha un aspetto piuttosto problematico. I ventricoli sono globalmente ampi, non c'è soltanto la colpocefalia, sono tutti quanti piuttosto ampi. Questa scissura interemisferica, oltre ad essere distesa, ha anche, vedete, delle irregolarità. Il terzo ventricolo è molto dilatato, è spiazzato verso l'alto, e guardate i corni frontali, che aspetto peculiare che hanno. E questa è la stessa paziente, vista con l'ecografia transvaginale, perché vale sempre la pena di fare un'ecografia transvaginale. e vedete, c'è questo aspetto molto peculiare e particolare di estremo assottigliamento del parenchima cerebrale in questo punto, con questa alterazione nella forma del ventricolo che non può non fare pensare a un'anomalia della migrazione neuronale. Quindi la paziente è stata consigliata con una malformazione, un'agenesia del corpo calloso, con delle caratteristiche piuttosto atipiche e quindi una probabilità molto più alta di avere delle problematiche di tipo neurologico e ha scelto di interrompere la gravidanza. Qualche altro caso di agenesia del corpo calloso con delle manifestazioni atipiche. Guardate questo feto, per esempio, che ha questa peculiare forma dei corni frontali, notevolmente asimmetrici, anche gli emisferi cerebrali hanno un aspetto strano, e poi a ben guardare, vedete, c'è questa alterazione speculare, come se ci fosse un elastico che viene tirato, tra la parete del ventricolo e la superficie dell'emisfero che fa fortemente pensare a una malformazione dello sviluppo della corteccia. Voglio testare la vostra preparazione. Prima gravidanza, basso rischio allo screening del primo trimestre, screening secondo trimestre, nessuna anomalia evidenziata, inviata a 25 settimane per sospetta palatoschisi. Il reperto era questo qui. Riuscite a vedere questa formazione cistica e vedete l'ensaggittale ancora. Iniziate a pensare. Abbiamo fatto una lezione sui tumori del collo. Arriva ora questa...